Video 5 parte 20 Come ho dipinto questa montagna è sul lago. Io continuo a dipingere la riva di fronte al lago. Dipingo gli alberi neri prima. Sto usando la stessa vernice come gli altri alberi. Dipingo verde scuro sopra il nero. I mix di colore verde brillante per l'erba. Il verde brillante non contiene nero. Questa lezione continua in parte 21. No. 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 No.